Non è stato facile selezionare dalle antologie originali lingua inglese le poesie che compongono la presente raccolta. Ogni poesia dell'autore ha infatti musicalità, ricchezza emotiva, incanto iconico e in questi versi sentimento, percezione, intuizione si convertono come per magia da eventi esistenziali e spirituali privati in immagini che comunicano quelle esperienze personali al lettore. Questo micro miracolo di fruibilità, di comunicazione efficace, questo poeta lo attua sempre a partire da una visione interiore, grazie ad un uso parco preciso, prezioso, un uso onesto del linguaggio.